Ciao a tutti, qualche tempo fa, un paio di settimane fa, non ricordo, ho postato un video che parlava del live monitoring per tasseristi ma in generale per musicisti e insomma mi avete scritto in molti con consigli, con molte domande, ci siamo scambiati diverse opinioni con molti di voi e molti mi hanno chiesto di approfondire uno dei sistemi dei quali parlavo e sono qui per recensirmi insomma ho contattato la ditta, mi sono fatto mandare un sample, è la Asia Audio senza phonics, il prodotto è il 3DME la ditta è interessante, andiamo a vedere subito qual è il contenuto della confezione insomma il prodotto viene spedito in questa custodia semirigida, molto pratica e all'apparenza è un normale in-ear monitor bodypack, chiamiamolo così, che ha un volume, e questa è una cosa interessante che avevo, insomma, per la quale avevo riferito in maniera erronea nel precedente video il caricamento è tramite usb, ha una bella accensione, un in, chiaramente, un'uscita out che ci sarà anche molto utile per questa recensione e il collegamento agli auricolari, come vedete, è doppio è particolare perché negli auricolari sono integrati speriamo di metterlo a fuoco in una maniera migliore possibile sono integrati dei microfoni eccole qua, sono questo, questa parte qua e questa parte qua c'è il cavetto usb, chiaramente per la ricarica, che dovrebbe essere usb, adesso mi confondo sempre un pochino ci sono delle, delle parti in gomma di riserva e che sono diversa a seconda del, insomma, anche della grandezza del nostro padione auricolare c'è un cavetto mini jack stereo mini jack stereo dall'altra parte e un clip se dobbiamo connettere, per tenere i cavi, insomma, in ordine se ci occorre la particolarità che vi dicevo è che questo sistema viene pilotato da un'app tramite bluetooth che adesso vedremo però io mi dicevo nella precedente recensione non mi va di appoggiarmi sempre a un'app dal vivo bene, non sapevo, questo è importante che il body pack contiene un regolatore del volume assolutamente analogico quindi più e meno cosa regoliamo con questo? regoliamo il volume di quello che vogliamo sentire dall'esterno perché, per chi non avesse visto il video precedente il mio dubbio sugli in-ear monitor è quello di dire, sì, sento tutto bene quello che sento negli in-ear monitor però vengo isolato da un po' quello che succede sul palco dalle voci, dai rumori di quello che succede sul palco quindi sento tutto molto bene ma sono anche allo stesso tempo molto isolato perché gli in-ear monitor sono utili se ci fanno sentire bene ma anche se ci proteggono l'udito quindi sono degli in-ear monitor quelli che andrebbero usati che ci tengono chiuso e protetto il nostro sistema uditivo ecco, con questo sistema l'orecchio è protetto perché sono veramente chiusi in maniera veramente molto comoda però totale però io posso scegliere cosa sentire dell'ambiente esterno quindi anche della cassa spia, ad esempio o le voci di chi sta suonando con me regolando questo più, questo meno quindi questo più, questo meno è il volume di questi microfoni di quello che sento all'esterno che viene mixato, ovviamente, a quello che io faccio entrare nel bodypack cosa faccio entrare personalmente io nel bodypack? di solito il segnale della tastiera che io prendo dall'uscita delle cuffie della tastiera quindi io faccio questo collegamento left e out della tastiera vanno al mixer o all'amplificatore se suono in situazioni più piccoline mentre dall'uscita delle cuffie della tastiera io entro nel linear monitor quindi io sento benissimo tutte le mie tastiere sento alla perfezione tutti i miei suoni tutte le mie parti ma sento contemporaneamente anche tutto quello che mi viene intorno che può essere la mia stessa cassa spia dove mi faccio mescelare tutti i suoni oppure se non ho una cassa spia sento direttamente gli altri strumenti gli ampli altri strumenti pensiamo se stiamo facendo un piccolo concerto in un locale soprattutto questo sistema è utile in posto chiuso pensiamo a quando facciamo le prove nelle sale prove che sono naturalmente degli ambienti rumorosissimi e anche chiusi quindi molto rischiosi per l'udito questo ci dà la possibilità di sentire tutto bene di proteggere l'orecchio e di scegliere cosa sentire e cosa non sentire proprio ieri sera io ero delle prove con dei miei carissimi amici ho sperimentato questo sistema sentivo tutto in maniera decente proteggevo nel stesso tempo il mio orecchio e potevo regolare quanto volevo sentire dei miei colleghi di avventura andiamo a vedere come funziona l'app poi diamo un'occhiata anche magari al sito che vi posso dare dei consigli si fa il pairing in maniera molto semplice perché il sistema è bluetooth io l'ho già collegato insomma all'apparecchiatura abbiamo mic level e possiamo vedere qua se vogliamo i canali uniti o separati cioè noi possiamo scegliere un volume per quello che avviene questo è il volume del microfono che è presente sugli auricolari quindi possiamo scegliere se vogliamo lo stesso volume in entrata in entrambi i canali auricolari oppure se vogliamo l'auricolare destro ha un volume e l'auricolare sinistro ha un altro volume non stiamo parlando del volume di quello che entra come segnale insomma di linea dalla tastiera o dal mixerino se abbiamo bisogno di un mixerino ma del volume dei microfoni che sono presenti sugli auricolari oltretutto ho dimenticato questo dettaglio insomma il fatto che abbiamo un microfono a destra e una a sinistra ci danno anche la spazialità a seconda di come ci giriamo è come avere un altro paio di auricolari ricchi diciamo è molto interessante come sistema abbiamo un limiter che posso attivare o disattivare e posso scegliere qual è il livello di questo limite posso linkarlo o anche in questo caso non linkarlo il limite in trishold è importante perché possiamo decidere quanto segnale in generale entra nelle nostre nelle nostre auricolari insomma questo è importante adesso il sistema è spento se io lo accendo vediamo che si connette e ci dà anche un'altra serie di informazioni che poi vengono salvate nel sistema tramite tramite l'app abbiamo le indicazioni della batteria come vedete in basso a destra abbiamo qua nel menu altre informazioni perché io posso salvare caricare le impostazioni che posso dare posso fare sia il test per vedere se sono messi bene gli auricolari se è ben chiuso il segnale del padiglione auricolare quindi viene messo un suono alto in alternanza un suono basso se il suono basso quindi frequenze gravi si sentono male o si sentono poco vuol dire che abbiamo inserito gli auricolari in maniera non non corretta e poi abbiamo un equalizzatore perché posso equalizzare mettete tutto in flat così come adesso o posso equalizzare le varie frequenze a seconda di come preferisco perché il segnale che mi arriva magari non mi aggrada quindi è una cosa anche molto molto confortevole insomma ritorno a flat poi abbiamo delle opzioni generali lo step mode e il set mode che posso scegliere per left e right insomma questo per quanto riguarda i pulsanti che sono presenti sul bodypack il cross connection left to right o light right to left scusate e poi start up squeal suppressor e poi il monitor processing bypass che posso attivare o disattivare insomma è un sistema molto pratico molto veloce veramente possiamo avere tutto a portata di mano in maniera in maniera molto comoda andiamo a vedere adesso qual è invece cosa c'è nel sito di questa ditta che produce questo sistema perché è molto molto interessante questo è il prodotto il prezzo è questo qua 799 dollari non è un prodotto economico come abbiamo detto anche nel precedente video è chiaramente il minus di questo di questo sistema va detto che però è un sistema che protegge l'udito insomma quindi ne va della nostra sinceramente della nostra salute e per il professionista è una cifra che si ammortizza insomma nei tanti concerti in tante prove che si fanno insomma si può acquistare direttamente dal sito non mi risulta che ci siano dei dealer italiani si può ordinare comunque direttamente dal sito senza problemi e la cosa interessante è che questo sistema è stato creato proprio non da un musicista ma da un medico che che si occupa di insomma di salute dell'udito qua ci sono le istruzioni se vogliamo andare approfondire come funziona il sistema e le caratteristiche il medico che ha inventato questo sistema che lo sta portando avanti il dottor Michael Santucci che insomma si occupa ci sono anche dei podcast che potete ascoltare che si occupa di salute dell'udito insomma e ha inventato questo sistema appunto per chiaramente trarne anche un vantaggio economico è ovvio però il punto non è tanto sentire meglio ma è non perdere l'udito noi sappiamo di tanti artisti che hanno avuto soprattutto nella musica rock che hanno avuto problemi di perdita dell'udito insomma il caso dell'utilizzo dei monitor da palco in maniera rata ma anche per un effetto l'art che può esserci anche in studio insomma per ultimamente ha avuto questi problemi ecco questo ci consente questo sistema di proteggere le nostre orecchie in maniera corretta e di allo stesso tempo avere la possibilità di ascoltare quello che ci avviene intorno e di avere il controllo con molta semplicità di tutto quello che c'è intorno a noi adesso magari vi faccio ascoltare un esperimento per farvi capire quello che avviene quando si utilizza questo sistema metterò una batteria in loop qui dal pc e io registrerò l'audio che esce fuori dal bodypack quindi avremo la sensazione sentirete quello che sento io in cuffia insomma allora qual è l'esperimento che facciamo adesso che collegamento ho fatto sono uscito dalla tastiera dall'uscita delle cuffie sono entrato nel bodypack tramite l'uscita audio out sono entrato nel registratore digitale io gestendo il volume che è presente sul bodypack quindi non toccherò i volumi del computer o di altre cose gestendo solo quel volume sentirete più o meno quella che è la il suono esterno degli strumenti esterni che non sono l'organo l'organo lo sentirete sempre insomma da questo momento io spengo la tastiera il suono scusate della telecamera e sentirete solo l'audio che viene dal registratore digitale quindi sentirete esclusivamente quello io modulerò il volume la batteria vedrete che va e che viene quindi la batteria rappresenta tutti i musicisti esterni insomma faccio partire la batteria e da questo momento l'audio è solo quello del registratore digitale la banalità che per Grazie a tutti. Ok, da questo momento sentite l'audio invece della telecamera. La batteria, come sentite, è sempre lì presente, però io potevo gestirla, modularla, dal mio bodypack, dal V1B. Spegniamo il batterista, proprio come dal vivo, in sala prova, non si riesce a spegnerlo. Ecco, la gioia di poter chiudere un batterista o un chitarrista all'occorrenza, quando non si ferma e fa troppo rumore. Come sentite, il batterista continuava. Noi non lo sentivamo quando c'era l'audio del registratore digitale, perché io lo andavo a escludere con il volume del bodypack. Ovviamente potevo fare la stessa cosa utilizzando l'app, se mi era più pratico, insomma, come cosa. È un sistema, che dire, utilissimo. Io ve ne accennavo nel video, ripeto, precedente. Immagino i vari musicisti che possono utilizzare, adesso vi parlo come tasterista, ma anche cantanti. Quante volte abbiamo visto un cantante sul palco dal vivo, che in continuazione toglie o reinserisce i near monitor, perché non si sente abbastanza, non sente il segnale dal monitor, perché poi molto spesso dal vivo si hanno entrambe le cose, sia la casa spia, sia questo qua. Con questo sistema, questo movimento, secondo me, non ha modo di esistere per i cantanti, perché essendoci un microfono attivo, io oltre a sentire bene tutto quello che mi viene intorno, in caso di problemi, comunque sento direttamente le mie voci da questi microfoni. Non la sento con gli effetti, non la sento con mille cose, però è come se non avessi gli auricolari, insomma. Ripeto, come avere quattro paie di orecchie, insomma, due per il segnale diretto e due per quello che mi avviene intorno. Io posso gestire quale di questi segnali attivare o disattivare, diciamo, quello dello strumento principale, sempre attivo, quello esterno, posso modularlo e sceglierne quanto ne voglio. Quindi, che dire, il sistema, secondo me, funziona, funziona molto bene, io l'ho sperimentato, proprio sto sperimentando in questi giorni, adesso proverò anche dal vivo, insomma, in una situazione di realtà. Ci sarà la possibilità di avere dei modelli di auricolari anche con il calco, mi sembra, del vostro orecchio, come sapete è un'opzione in più che può essere comoda e utile per tanti. Ditemi cosa ne pensate, l'ho provato, sono veramente entusiasta. In Italia non l'ho visto, granché non mi sembra che ci siano, penso, questa potrebbe essere la prima recensione di questo prodotto su un canale italiano, ditemi cosa ne pensate, se lo provate, datemi le vostre impressioni. Vi lascio il link, chiaramente, qui sotto per andare sul sito, avere più informazioni e eventualmente acquistare il prodotto. Ciao a tutti, proteggete, insomma, le orecchie sono il nostro strumento principale di lavoro.